C'è tutta l'equipe diocesana della CR riunita questa sera per programmare a meno di una settimana la festa della pace, la festa che tradizionalmente conclude un percorso lungo un intero mese, giusto Erika? Esatto, infatti come ogni anno la CR organizza alla fine del mese della pace una festa, la festa conclusiva, conclusiva di un mese dove i ragazzi hanno fatto nelle loro parrocchie delle attività e hanno cercato di rispondere alla domanda ci riesco, mettendo insieme e condividendo i loro talenti. Durante la festa della pace incontreranno dei personaggi, degli inventori che gli faranno percorrere la loro storia e gli faranno un po' capire come loro sono riusciti a essere costruttori e quindi anche i ragazzi come potranno essere costruttori di pace. Bene, quindi Luca l'appuntamento è? L'appuntamento per tutti i bambini e i ragazzi è a Fossombrone, sabato 31 gennaio alle ore 15 lungo Corso Garibaldi. Vi aspettiamo!